uno youtube particolare guardare queste canne di bambù guardare in questo momento sono situato in una parte pianeggiante di una valle lombarda però rimane a tutti un segreto finché mi scopriranno esattamente dove io sono sono lontano un chilometro da un luogo abitativo di case ma qui è veramente un posto nascosto veramente dove io penso ci provo a vivere da eremita in più o qui qui non posso farvi vedere la cascina una cascina ben abitabile col tetto rifatto ma sono qui in questo luogo dove io vedo le canne di bambù c'è vicino anche un ruscello non un torrente un piccolo ruscello dove quando le rane sono in amore si sente il bel verso qui è una osi di pace dove si sente solo il rumore degli uccellini però dirò che in questa zona va proprio bene lo smartphone qui canne tagliate e poi vedo quest'albero quasi spoglio e poi poi cosa vedo nascondo un sotterraneo dove poi mettendolo a posto verrà un mio luogo artistico ecco eccolo lì non è piccolo bensì 20 metri quadrati non entra l'acqua l'importante è farlo mettere a posto qui consegno la mia vita al mondo come in una lettera per dire io sono un eremita voglio provare ad avere la solitudine in assoluto che angoscia mi potrebbe andare che senso di interiorità potrei avere forse per me risulta anche positiva bell'eremita si può fare un certo periodo non per sempre però l'importante è provare come vivere nel caos cittadino in un senso caotico io provo me stesso a fare l'eremita avendo tutte le necessità del cibo e qui qui guardo qui intorno esco da questa parte sotterranea dove è stato battuto qui un piccolo cancello ripeto sono sempre lombardia ma in una valle dove c'è una parte pianeggiante che io posso rimanere che non è di nessuno è solo un abbandono un abbandono che aldo costruisce il proprio io guardare questo bel prato non c'è vento non c'è niente c'è un palo della luce vicino ma l'importante è godere di questa tranquillità per riaffiorare in me la malinconia le tristezze le felicità che ho avuto nella mia vita un ricordo e infatti sto qui sto qui bel tranquillo a guardare tutte le mie foto le mie foto in più ho anche un bel salotto guardare le piante guardare dove sono ma guardare dove mi sto dirigendo verso questa pace dove non c'è nessuno più avanti c'è un piccolo laghetto ma è lontano 500 metri qui questo albero ha fatto una bella pettinatura si è abbassato diventato una bella testa rotonda con dei bei capelli verdi che è bello quest'albero di fronte ecco questo che io sto andando il mio salotto dove io vivo il mio la mia interiorità ecco che mi avvicino sempre di più l'albero si è abbassato e ha formato una specie non poltrona d'appoggio per sedersi eccolo qua io io mi avvicino al mio amico ecco l'unico colloquio l'eremita aldo che può avere con un'essenza vegetale eccolo qua lo abbraccio lo abbraccio e per di più lo guardo sotto questa parte d'ombra dove il sole non mi vede neanche il sole non mi vede nessuno aldo ciao l'eremita vive da solo ci prova a vivere con tutte le sue necessità certo bisogna provare questa vita può anche piacere ecco vi saluto dall'eremita aldo il viandante girovago ha voluto fermarsi un estante per meditare e i suoi viaggi i suoi viaggi e i suoi viaggi Grazie a tutti.